Ha fatto sei mesi fantastici, in Italia va, ha migliorato molto le imprese, questo bisogna che ha parlato, cosa ha detto? Lo stanno a sentire seri, è fantastico. Chi è? In questo semestre le imprese ne chiudono due ogni ora, in questo semestre il debito pubblico è aumentato di 74 miliardi rispetto al mese dell'anno scorso, a 2.154, la disoccupazione al 13, quasi al 13 e mezzo in questo semestre, fantastico.